amici bici la strada bentornati sul canale qualche tempo fa sul nostro sito realizzato un contenuto relativo alla bici endurance che vorrei cioè le caratteristiche ideali di una bici votata alla comunità senza perdere però divertimento e prestazioni bene a distanza di qualche mese giant sembra avermi ascoltato ovviamente si fa per dire perché la nuova di fai che vedete qui alla mie spalle secondo me si avvicina molto a quel concetto di bici e endurance con questa uscita concludo un test durato diverse settimane nel periodo invernale e vorrei idealmente portarvi in sella con me proprio per spiegarvi perché questa tipologia di bici endurance potrebbe interessare veramente tanti appassionati quindi se la cosa vi stuzzica venite con me andiamo per prima cosa vi svelo quello che il modello che ho usato di questa dei fai che è l'advanced pro zero quindi non la versione top di gamma ma una delle più interessanti per rapporto qualità prezzo montata con ultegra di ai due e ruote in febbre di carbone quello che colpisce che sorprende sin dalle prime uscite di questo mezzo è la sua reattività la sua brillantezza la sua prontezza nella risposta che è decisamente superiore rispetto alla media di tutte le bici endurance secondo me una delle migliori in questo senso immagino che sia dovuto un po alla laminazione della fibra e un po anche alle geometrie questa dei fai infatti assorbe molto bene le vibrazioni permette un'impostazione in sella abbastanza comoda ma allo stesso tempo grazie a soluzioni diciamo molto semplici ed essenziali e a tubazioni sottili dove serve riesce ad essere molto maneggevole sia in fuori sella sia in discesa e allo stesso tempo a contenere il peso in maniera significativa addirittura 7,7 kg senza pedali in taglia ml tutto questo con le gomme tubeless da 32 mm che vengono proposte di serie quindi una gomma importante che sicuramente amplifica il comfort amplifica la guidabilità del mezzo ma aumenta anche un po il peso e rende la bici un po meno brillante ecco nonostante questo nonostante delle gomme così larghe la dei fai rimane comunque una delle bici più reattive più sportive della sua categoria per completezza io l'ho utilizzata anche con le ruote che uso normalmente delle shimano dura ace c36 con gomme tubeless da 28 mm in questo caso le vittoria corsa pro ecco già cambiando la sezione della gomma si possono ridurre circa 200 grammi dal peso complessivo e si ottiene una bici molto più dinamica sia in salita che in discesa non voglio dirvi che le prestazioni siano uguali a quella di una bici da competizione ma secondo me ci vanno molto molto vicino anche perché siamo su quello che è un modello non top di gamma il carbonio è quello della advanced pro mentre la versione sl ha una laminazione un po più spinta un peso un po più contenuto e montandoci un gruppo top di gamma dovremmo avere un mezzo che va poco sopra i sette chili tuttavia abbiamo già detto che questo è uno degli allestimenti più competitivi per prestazioni prezzo perché abbiamo un prezzo di listino di 6.399 euro e a meno che non abbiate delle esigenze molto particolari in pratica non c'è da cambiare nulla perché troviamo l'ultegra elettronico ruote giant slr1 in fibra di carbonio hukles e anche già manubrio e reggisella sono in carbonio tra l'altro con un reggisella con una forma molto particolare studiata per assorbire ancora di più le vibrazioni io concludo la salita perché poi c'è da dire molto anche della discesa quindi continuiamo il giro in discesa la gomma da 32 da grande sicurezza grande stabilità anche se questa defa è risultata in discesa la gomma da 32 da grande sicurezza grande stabilità anche se questa defa è risultata in rispetto ad altre endurance rimane comunque più maneggevole un po più veloce nei cambi di direzione quindi tutto sommato diciamo che è un buon compromesso tra stabilità e divertimento diciamo che rispetto ad altre vici di questa categoria non offre sin da subito la stessa confidenza bisogna riuscire a guidarla ma d'altronde questa è un comportamento che mi aspettavo anche in relazione a quello che avevo percepito in salita diciamo che rimane un ottimo compromesso una via di mezzo tra le bici endurance più docili e le bici da competizioni una via di mezzo sono anche le geometrie che sono sì comode ma non troppo rilassate quindi abbiamo un reach un po più contenuto rispetto alla tcr uno stack più abbondante però se paragoniamo questa bici con altre bici endurance molto votate al comfort troviamo una impostazione un po più aggressiva ad esempio se una track madonna un reach ancora più corto e uno stack ancora più elevato poi è chiaro che abbiamo un angolo sterzo un angolo piantone un po più aperti e soprattutto un carro abbastanza lungo in questa taglia l ml abbiamo un carro da 42 cm che permette maggiore stabilità e ovviamente anche di montare una gomma un po più grande abbiamo detto che di serie vengono montate gomme da 32 ma si può andare fino a 38 mm insomma come avete capito questa tipologia di endurance molto sportiva secondo me è particolarmente azzeccata perché permette di trovare un ottimo equilibrio fra comodità e prestazioni nello specifico questa defy ha anche soluzioni molto semplici essenziali ma estremamente efficaci nella pratica è un mezzo che può essere molto interessante per chi fa gran fondo anche a livello agonistico e comunque per tutti coloro che vogliono una bicicletta comunque divertente e scattante ma magari non hanno quella capacità di mantenere una posizione così aggressiva come quella richiesta dalle bici da competizione che nascono soprattutto per i professionisti nel complesso quindi direi che è sicuramente un mezzo che può interessare una fetta di pubblico davvero molto molto ampio senza considerare che nel caso specifico della giant defy c'è anche un ottimo rapporto qualità prezzo abbiamo già detto di questo modello ma in generale su tutta la fascia di prezzi se volete sapere di più su questa su questo testo specifico vi rinvio come sempre alla prova con i voti che trovate qui sotto il video e